Il Seravezza Pozzi nel campionato di Serie D riceve domenica pomeriggio il grosseto del condor Vitagliano Bonuccelli e dal buon riposo va in scena senza dubbio una gara di quelle davvero da tripola. Si affrontano infatti due squadre con organici ben assortiti. Il Real Forte Querceta dopo aver riassaporato il gusto della vittoria con il Cenaia, dopo tanto tempo affronta fuori casa il Trestina che ha pareggiato 1-1 con il Poggi Bonzi. Per i bianco-nerazzurri è importante muovere la classifica. Il Lattao Alto Pascio gioca in casa con il Sansepolcro ed ha l'opportunità subito di recuperare dopo la sconfitta subita a Montevarchi. Il Ghibiborgo è a Poggi Bonzi per cercare di dare continuità al successo della settimana scorsa sul Figline. In eccellenza il programma propone Massese Cecina, Pro Livorno Camaiore, Montesperto di River Pieve. In promozione Pietrasanta Luco, Pieve Fosciana Seano, Cerretese San Marcavenza, Settimello Castelnuovo riposa il Viareggio.